Fondi, aiuti, a famiglie segnalate dai servizi sociali alla fine dell'anno, vista la straordinarietà del momento, grazie doppio perché sono riuscito a organizzare insieme a questo gruppo di soggetti della nostra città questa occasione che sicuramente servirà dal ristoro, ancorché evidentemente momentaneo, ma significativo e rilevante per alcune delle famiglie della nostra città in carico.